Presidente, presentazione di questa nuova ConfCommercio che ha un obiettivo molto ambizioso, cambiare la mentalità dei commercianti. Perché e in che modo? Perché oggi con la crisi bisogna ancora pensare di dedicare del tempo all'associazionismo, perché insieme si possono raggiungere degli obiettivi. Cambiare mentalità perché Città Vecchia negli ultimi anni è cambiata commercialmente, nel senso che se prima era soltanto una città di lavoro, adesso bisogna che si pressi anche la città turistica. Per cui noi commercianti dobbiamo predisporci per il turismo. E proprio al porto è indirizzato il vostro sguardo, non solo lì ma soprattutto lì perché volete intercettare il traffico dei croceristi. In che modo? Facendo delle proposte già a bordo, ci sono già delle iniziative che noi a bordo tu che sbarchi a Città Vecchia puoi avere un dettaglio di opzioni per visitare Città Vecchia. Oggi purtroppo se il crocerista arriva a Città Vecchia, sulle varie escursioni ce ne sono sei a Roma, una a Tarquigna, a Tuscania, a Città Vecchia non c'è. Per cui noi bisogna che ci proponiamo con le proposte a bordo e in più noi commercianti bisogna prepararci per l'accoglienza. Ma non solo dei croceristi, anche chi vuole venire a Città Vecchia, chi viene per lavoro o chi da Roma vuole venire a vedere il pesce oppure qualche altra proposta enogastronomica che possiamo presentare. Quando vedremo in concreto queste idee che avete per il momento in mente? Ci siamo insediati due settimane fa, quindi adesso abbiamo fatto soltanto una riunione dopo la presentazione del gruppo, per cui nel tempo ci confronteremo anche con le autorità comunali, con delle proposte che poi a voi giornalisti vi comunicheremo. Possiamo dire prossimo obiettivo quindi l'estate? Sì, adesso l'obiettivo è Pasqua, se riusciamo è estate, i commercianti devono guadagnare di più, incassare di più.